Buongiorno Milano da Palazzo Marino. Quando c'è da ringraziare i milanesi per il loro comportamento virtuoso? Io sono sempre il primo a farlo e mi piace anche, però ci sono i momenti in cui c'è da incazzarsi e questo è uno di quei momenti. Le immagini di ieri lungo i navili sono vergognose. Ora è anche un po' per me deprimente dover rispiegare qual è la situazione, ma nel mio lavoro ci sono tante cose che si debbano fare e quindi ve lo ridico. Noi siamo non solo in crisi dal punto di vista sanitario e l'abbiamo visto quanto ha toccato questa città, la pandemia, ma siamo in una profondissima crisi socio-economica. Milano ha bisogno di tornare a lavorare, a lavorare. Questo è il punto, non è un bezzo, non è una voglia a riaprire, è una necessità e io sto e starò sempre dalla parte di quelle famiglie che fanno fatica a arrivare a fine mese. Sto dalla parte di quelli che vanno a lavorare, non a divertirsi, per portare a casa per le loro famiglie quanto necessario e non permetterò che quattro scalmanati senza mascherina, uno vicino all'altro, mettano in discussione tutto ciò. Potremmo essere inconsapevoli, non pienamente consapevoli, due o tre mesi fa e anch'io lo sono stato, ma ora no, dopo tutto quello che abbiamo visto. Per cui, guardate, io non sono un politico da metafore, sono un politico da atti. O le cose cambiano oggi, non domani, non è un penultimatum, è un ultimatum. O le cose cambiano oggi o io domani, come al solito, sarò qua a Palazzo Marino e prenderò provvedimenti, chiudo i navigli, piuttosto che chiudo lo sporto e poi lo spiegate voi ai baristi perché il Sindaco non gli permette di vendere. Ve lo spiegate voi. Questa è la realtà. Poi io mi piglio le mie responsabilità, stasera ci metto più vigili, ma ve lo ripeto, non è un guardia ai ladri, non è un gioco. Non possiamo permettercelo in una città da 1.400.000 abitanti e 1.700 km di strade. Per cui usiamo la testa tutti, anche perché senza testa c'è l'1% dei milanesi e quelli sono l'1%, io non permetterò che l'1% metta in difficoltà il 99%. Vediamo domani mattina com'è la situazione.